Ciao, sono Pica Palindromo e oggi voglio parlarvi di un mio problema. Nella mia vita ho fatto molti lavori. Ho lavorato in una vigna, ho fatto il macellaio e ho lavorato in un birrificio. E sì, sono tutti veri, a parte le foto che sono false. E fin qui andava tutto bene perché alle persone era ben chiara la mia mansione, però poi ho fatto il musicista. E ma ti lavoro? Ho fatto l'attore. Come? Ed infine il videomaker. Eh? Ecco appunto. Così ho deciso di fare un'indagine, quindi prendete i popcorn perché stiamo per fare un viaggio guidati da piccoli aiutanti che ho recuperato in giro per l'Italia. Ebbene sì, questo oggi vedremo un video molto speciale che si titola Gli bambini spiegano i lavori. Ok, detto questo possiamo cominciare. Ciao ragazzi. Ciao Pica. Ciao. Ciao Pica Palindromo. Come ti chiami? Io mi chiamo Cicilia. Francesca. Giulia. Noemi. Betto. Rebecca. Sara come le... Sara è il nome e come le è il cognome. Quanti anni hai? Ho 4 anni. 8. 6 compiuti il 18 giugno. 8. Appena compiuti. 6. 6. 9. Iniziamo con i lavori più facili. Che cosa fa il veterinario? Cura gli animali. Controllare la bocca. Cura gli animali. Cura gli animali. E fa le punture. Cura i mezzetti. Cura gli animali. Cura la pancia. Cura la cittina. Cura gli animali. Questo è il veterinario. Che cosa fa l'operaio? Ehm... Fare opere. Costruisce giocattoli. Opera. Operaio. E quello che fa il ferro? L'operaio penso che uccide gli animali e poi va dal veterinario. Che cosa fa la casalinga? Non lo so. La casalinga è la meringa. E' una mamma che lavora in casa. Sta a casa e lavora a casa. Fa gestieri. Spolisce la casa. Non ha il lavoro e fa i servizi. E invece che cosa fa il pirata? Io non so cosa fa. Va sulla barca. Ehm... Naviga. Fai lì il tesoro. E così viene che vuole prendere un tesoro. E' uno che ruba. Dice alla caccia del tesoro. E fanno. Orr. Ruba i bottini. Orr. Un marinario. Deve seguire la mappa e serva il tesoro. Questo è un po' difficile. Che cosa fa il politico? Il politico è quello che fa le leggi? Ehm... No. Il politico mi sembra che è come Donald Trump. Il politico è un pinguino. Comanda. Uccide le persone. Il politico è un signore che prende i soldi dagli altri per comprarsi quello che si vuole. Provi invece a dirmi che cosa fa l'influencer. L'influencer? No. Influencer. Ah. E' come l'influenza. Ah. Uno che ha una malattia e l'attacca qualcun altro. E' una persona che prende tante malattie. Ehm... E' uno che rimane sempre a casa perché è sempre l'influenza. E' una persona che dice che le cose gli altri la puttano. E di me fa l'influenza. E' una persona che è molto seguita sui social come la Sabri. Che cosa fa l'avvocato? Quello che decide. E' uno che sospetta le cose, che dice hai rubato qualcosa, hai infranto la legge, cose così. E ruba la macchina a un altro. L'avvocato chiama la polizia. Allora, ognuno di noi va dall'avvocato, che è una persona che lavora in uno studio. E' uno che difende le persone. Che difende le persone. Ok, facciamo una piccola pausa, se no diventa troppo noioso. Direi di mettere uno stacchetto musicale. Peppo, ci pensi tu? Finito? Ecco, sì. O magari canta una canzone. Tu, 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 tu. Ripartiamo. Che cosa fa il dottore? Quello che cura i pazienti. Dottore, insomma, cosa fa? E come ci ho detto prima che... Cura la pancia. Cura i bambini e gli adulti. Gli occhi. E quello che ci cura? Orette. Cura i bambini e gli adulti. Cura le persone se hanno qualche malattia, tipo, tipo, no, il sanghioccio no. La bocca. La febbre, la pancia. Tipo l'affreddore. Tutte le cose. Quello è il dottore. E il muratore. L'immuratore è quello che costruisce i muri. È una persona che va in barca. L'immuratore. Quello che giusta le cose. Costruisce case, i muri. E fa le case. E lo buono, cioè, fa le buche, taglia il legno. Quello è il muratore. Questo è facile. Che cosa fa il cuoco? Il cuoco è uno che cucina. 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 E il cuoco cucina. Quello che cucina. Cucina. Eeeh, la tatturina. E' uguale. Però c'è, questo è un cuoco diverso. Perché è un signore. Lui è un cuoco. Il cuoco c'è cucina le pizze. Pizze e la pasta. Cioè, cosa? Voto 10. Mi piacete. Ma andiamo avanti. Che cosa fa il pompiere? Quello che serve le persone è spegne il fuoco. Quando c'è un incendio lo toglie. Sono i vigili a fuoco. Spegne il fuoco. E quello che spegne il fuoco? Loro spengono l'acqua e salvano le persone che erano dentro. Poi se c'è tipo qualcosa in alto, prendono il scatto e prendono quella cosa. Salva le vite alle persone perché quando c'è un incendio lo va a spegnere. Questo è di nuovo difficile. Che cosa fa il personal trainer? Il personal trainer è un termometro che te lo mettono qua. Personalizza la sua macchina. E anche le altre macchine. E' un signore che fa delle persone grasse e la fanno diventare magre e le persone magre fanno diventare forti. E' quella persona che aiuta in palestra. Cecilia, sai che cosa fa Pica Palindromo invece? Fa video. Sono la chitamua. Con il chitamuro. E il piano forte. Anche in un canale. Ti stai spammando, Peppo? Ragazzi fate così, chiudete voi questo video. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Allora, se vi piaciuto il video. Lasciate il like. E commentate. E se vi metti al canale. Vi do appuntamento al prossimo video. E cliccate la campanellina e fatelo scoppiare. Boom, boom, boom. Ciao. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.